ben trovati a una nuova edizione del senior tg vediamo i titoli macroni in israele obiettivo primario liberare gli ostaggi oncologia la cosa servono i test clinici sanità pubblica le risorse sono un investimento non una spesa perché i giovanissimi smettono di praticare sport oggi il presidente francese emmanuel macron è arrivato in israele dove ha avuto un incontro con il presidente israeliano erzog a gerusalemme dopo aver incontrato i familiari degli ostaggi di hamas ha ribadito come il primo obiettivo da porsi sia la liberazione di tutti gli ostaggi senza nessuna distinzione israele non sarà lasciato solo a combattere contro il terrorismo aggiunto e ha proposto una coalizione internazionale con i partner in iraq e siria anti isis per combattere a massa e tutti i gruppi terroristici che minacciano la popolazione proprio come i farmaci anche i test clinici devono passare una valutazione così da poter garantire ai pazienti il miglior trattamento possibile ce ne parla giuseppe curigliano direttore del dipartimento nuovi farmaci all'istituto europeo di oncologia la valutazione di un test clinico è diverso da quello di un farmaco diciamo che la regolamentazione non è così ferea come quella che porta di fatto all'approvazione di un farmaco però ormai nell'ambito degli studi è sempre più frequente avere lo sviluppo di un farmaco in parallelo lo sviluppo di un test si chiama companion diagnostic in americano penso che sarebbe opportuno nel futuro integrare nell'ambito delle sperimentazioni cliniche anche l'introduzione della test tipico per predire il beneficio di una terapia in modo da validarne la sua utilità clinica un euro investito nel servizio sanitario nazionale ne genera quasi due di produzione in valore lo ha dimostrato il rapporto stilato dalla federazione nazionale degli ordini dei medici insieme al census prendendo in esame gli impatti economici e occupazionali della spesa sanitaria pubblica non solo un erogatore di servizi sanitari quindi ma un attore primario dello sviluppo italiano ha detto Filippo Nelli presidente della FNOMCEO le risorse pubbliche destinate alla sanità vanno considerate come investimento e non come una spesa l'attività sportiva prepara i giovani a mantenere abitudini di vita salutari ma studi recenti hanno dimostrato come il 70 per cento dei bambini abbandona l'attività sportiva entro i 13 anni una ricerca della Nemours Children Health ha studiato come i problemi legati all'immagine del proprio corpo i social media e i pregiudizi di genere possano essere tutti i fattori responsabili della crescente rinuncia allo sport i ricercatori hanno quindi sottolineato l'importanza che i genitori comprendano l'influenza del luogo e dell'allenatore con cui si pratica lo sport per oggi è tutto prima di salutarvi vi ricordo che potete seguirci sulle nostre pagine facebook youtube e instagram e vi do appuntamento alla prossima edizione